Questa era da tanto che la volevo fare, sinceramente la top 10 dei mondi più accoglienti, ridenti, allegri e nei quali trasferirsi nei videogiochi. Benvenuti su Watchmen Italia per un video sulle 10 ambientazioni più deprimenti, tristi, brutte, lugubri, grottesche, veramente da me voglio andare, mi fa passare quasi la voglia di giocare. Mai viste nel mondo del gaming, posti che ben conosciamo, che però si meritano una classifica appunto tutta loro, basata anche appunto su una differenza da 1 a 10 del fattore depressione causato. Incominciamo alla numero 10 con quello che secondo molti è il mondo più deprimente, ma in realtà già di peggio, ossia le Colline Silenti, serie di Silent Hill, trasferitevi a Silent Hill. Sembra il nome di una tranquilla località di villeggiatura sperduta tra placidi colline, vero? Tranquilla, in effetti lo è, non vola una mosca, visto che gli unici inquilini sembrano essere manichini depravati con braccia al posto della testa e la testa al posto del culo. Silent Hill! L'unico posto in cui nessun vicino vi darà mai fastidio, perché so tutti morti, trasferitevi a Silent Hill! Il posto in cui le giornate non sembrano finire mai, e questo perché effettivamente è vero, non finiscono mai e sono soltanto un loop eterno di terrore psicofisico. Silent Hill! L'unico posto in cui tutti si possono permettere una casa, perché non servono soldi per comprarla. Solo la tua anima, Silent! E la numero 9, la ridente Wellington Wells. In un mondo post-Seconda Guerra Mondiale i nazistelli hanno vinto tutto e ora se la stanno spassando come piace a loro. Trucidano minoranze, ghettizzano civili innocenti, devastano la società, già di per sé non è che sia esattamente il mondo dei tuoi sogni, a meno che tu non sia biondo e con gli occhi azzurri. Ma ecco, il trattamento riservato alla città di Wellington è la ciliegina sulla torta, ossia la promessa di libertà ai cittadini in cambio dei loro figli. E perché no? Mi sembra un'offerta ragionevole. E infatti accettano. E ora gironzolano tutti sghignazzando per strade coloratissime imbottiti di droghe somministrate dai nazisti che li rendono felici tutto il giorno e senza pensieri. Ehi, mica male! Poi però ci sono i downers, letteralmente gli sbassoni, quelli che non pigliano le droghe e dicono che i nazisti, i drogarsi e vendere i figli sono tutte cose brutte. Qua sta feste di merda! Andate da un'altra parte, è la numero 8 Gaia. Nome che in Final Fantasy VII subito richiama la natura a un contesto primordiale, bucolico, infatti è tutta una specie di agglomerato di tubi, acciaio e cemento post-industriale a perdita d'occhio. Ora, c'è da dire che se ti piace questo stile neobrutalista, alla fine, tanto deprimente non è, voglio dire, fa molto cool, molto Blade Runner, no? La terra tutta rosa e fiori, lasciamola quegli pi retrogradienti progressisti di Cloud, nuvoletta, si capisce tutto da noi, e tornatene a fare corolcine di fiori coi tuoi amici e gli altri che vogliono salvare il mondo dall'industria elettrica del cattivone, scirra, che vuole soltanto dare elettricità a tutti, povero ragazzo. E anche conquistare la terra, va bene, ma, buh, tornatevene ad accendere il fuoco con i ramoscelli, se proprio volete, cavernicoli. E alla numero 6, sera, nella serie di Gears of War, prima si chiamava Sé, poi scappano fuori le locuste e cambiano, capito? Era una carina questa, no, non era carina. E giustamente un sacco di persone in una similterra vivono tranquillamente le loro vite fino a che degli alieni non escono dal terreno, uccidono tutti. Per uccidere gli alieni che uccidono tutti, il governo devasta il pianeta con un bombardamento similtermo nucleare che uccide tutti quelli che non erano stati uccisi prima, e i pochissimi sculati che a questo punto restano comunque in vita vivono sotto un regime dittatoriale che si impone post-guerra così, tanto perché ci stava bene, in un mondo che è costantemente devastato da cicloni di fiamme causati dalle armi usate. Non è deprimente, è... 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 Interessante! E alla numero 6, il mezzo valala, mezzo... quello che è, in Hellblade, che a fine gioco viene da pensare... cioè, da capire, anzi, che sia tutto nella testa di Senua. Peccato che la testa di Senua, appunto, diciamo che ha qualche problemina, è un gioco basato sulla sua schizofrenia. Praticamente non è un gran gioco, vi dico la verità, è stato osannato, ma per me è ripetitivissimo troppo nel combattimento, nei puzzle, in quello che ti vuol dire che lo capisci subito dal primo secondo. La cosa migliore comunque è di certo solo l'ambientazione, che è questo bellissimo paradiso norreno fatto di gente squartata, fiumi di sangue, budella, villaggi inceneriti e cadaveri, arzi e crocifissi, letteralmente ogni angolo è visitabile. Quanto meno è la prima volta in cui si vede un regno dei morti coerente col suo nome. Cioè, sono tutti morti, e ci restano morti, non è che sono vivi. Cioè, nel regno dei morti sono sempre tutti vivi. Ma com'è sta storia? E alla numero 5, il... limbo, credo, in... limbo. Altro gioco mega osannato ai tempi per essere uno dei primi indie d'impatto su tutte le piattaforme, invece, alcuni, personalmente tra i puzzle più ingiusti e incomprensibili, progettati proprio peggio a livello di design, mai visti una storia che non esiste in pratica. L'unica cosa che si avvince è che siamo in un limbo, penso appunto, e un bimbo. In un limbo, morto, triste, probabilmente perché è morto in un limbo, il bimbo, un mondo fatto di nero, grigio e depressione, che serve soltanto a fare da contrasto perché anche noi siamo neri se non ci vedevamo, un mondo abitato da persone e ragni giganti che mangiano su dette persone, e noi che corriamo dritti per arrivare, non si capisce bene dove, verso un finale in cui ci risvegliamo, quindi dice, beh, almeno era tutto quanto un incubo, sì, ma no, perché ci risvegliamo sempre. E la numero 4, il qualunque cosa sia in Inside, la cosa certa è che in Inside c'è ogni cliché in questo mondo, di qualsiasi distopia, mondo in cui il colore vivace anche qui è il grigio morte, in cui un altro ragazzino, in questo caso, viene inseguito dalla polizia, qualche amico delle guardie deve aver fatto lo sniccione, e quindi noi scappiamo per queste piazze piene di gente che cammina in fila indiana a testa bassa, guidata da soldati vestiti di nero sotto schermi in cui i volti giganti fanno comizi. Una distopia mostrata in maniera veramente sottile, come vedete non ci sareste mai arrivati se non ve l'avessi detto io, e il tutto soltanto per diventare una palla di carne rotolante libera, nel mondo che vaga, assimilando con... che è tra l'altro di sicuro la cosa più allegra del mondo. E la numero 3, la terra di The Last of Us. Il mondo fortunatamente è finito, ma non per tutti. Quelli che non sono diventati grossi funghi umanoidi incazzati come le faine, sono diventati enormi teste di cazzo. La fine del mondo serve infatti a mostrare una cosa, ossia non che è deprimente tanto il fatto che sia finita la società, quanto il fatto che si scopra che quella società in fondo era fatta soltanto di animali in partenza, quindi, forza clicker, io sono per il fronte popolare core di Ceps Unito, chiunque incontri prova a ucciderti, chiunque incontri te viene ucciso, perché pure Joe, Ellie e compagnia bella sono diventati tutti dei mezzi pazzi scriteriati, alla fine è il gioco del sopravvivi facendo non sopravvivere gli altri, è tutto infestato da rampicanti e muoiono i coniglietti. È una cosa veramente orribile, soprattutto per il fatto che muoiono i coniglietti. E alla numero 2, un qualunque mondo pensato da Miyazaki nei Souls, ma anche agli Arnam, odio un pochino meno il mezzo Giappone di Sekiro, che però non è propriamente un Souls, quindi appunto non vale per il resto quello che esce dalla mente del buon Idetakabus, sempre materiale di grasse risate, mondi agli sgoccioli in cui gli unici superstiti cercano di ricostruire il mondo? No! Di allontanare più che altro di qualche giorno la vera fine del mondo, uno scenario veramente di pura allegria, l'unico che prova a scongiurare l'apocalisse in Dark Souls, per esempio, è Por Gwyn, che sacrificandosi però in pratica rende tutti dei morti viventi schizzoidi, e perché, insomma, forse alla fine era meglio che il mondo finiva veramente, è tutta sempre una gran festa, ecco. E alla numero 1, i sotterranei della metro, nella serie metro, il mondo è deflagrato in una simpatica apocalisse nucleare causata da nazisti e comunisti, devastando l'intero pianeta ridotto dunque. A una landa desolata di radiazioni, nessuna speranza, lacrime, dolore, urla, agonia, stridore di denti, morte certa. E la cosa divertente è che questa qui all'esterno è la parte più ospitale del mondo, perché appunto, se non vi va troppo di non avere speranza, piangere, soffrire, urlare, agonizzare, e digrignare i vostri denti, morendo, di certo, potete trasferirvi, come hanno fatto tutti, nei condotti della metro e nei sotterranei che tappezzano la Russia, e nei quali si è creata una specie di società alternativa di nazi mutanti in guerra con comunisti pazzi, ridotti alla fame. E io sinceramente, altrimenti me ne torno fuori a agonizzare e stridere i denti, perché par più di mi artente. Allora, fatemi sapere qua sotto, secondo voi, qual è il mondo più deprimente che avete mai visto nei videogiochi? Ci vediamo domani per un altro video.